Ehi, eccoci qua con lo sport acquatico che vi stavo dicendo nella volta scorsa Attacca ginnastica Sport acquatico e nuoto sincronizzato Allora, nel nuoto sincronizzato dovremo Scegliere quattro personaggi C'è un casuale? Ok Va bene Ho fatto casuale Quello che è uscito è uscito Allora, sono tre Il canto di primavera che va letteralmente schifio Attivamente dovete indicare col telecomando la direzione che vi chiede Nel momento giusto Ah Ah Come è un po' di giusto a presto cosa d'è? ne so ho messo vabbè questo era il primo quarto ho fatto veramente schifo non gioca ancora cambiamo musica vediamo se con la polca riusciamo a fare di meglio trickstruck polca vabbè trickstruck ok sembra un cartone animato trickstruck 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 poi seguite Ok. 40 su 40, 50 e 60, 40 su 40 e 50 e 60, che roba, il mio record nella partita quasi completa è 59, ah giusto con la terza ricordatevi, almeno sono arrivato prima, posso farvi vedere la cerimonia di premiazione, chissà, regalarmi cerimonia di premiazione, non si menziona personaggi, gioca ancora, non fa. Ok, allora scegliamo gli stessi, chi era il terzo, ciao, lo giusto, ok. Basta che il cellulare non si spenga proprio nel momento in cui penso io, perché se no sono fritto, se no sono fritto, se no le so fritte. È più veloce. È più veloce. E' più veloce. E' più veloce. Vim. La lanza grise, numero C. Nota! Ah, non me l'ha contato, ho sbagliato! Che bello! Infatti ho fatto record, ma ho fatto un sacco di sbagli. Vi ricordate che dall'altra parte ho fatto il meno sbagli. Ho fatto peggio. Ah, si, qua ti pareggia tutto. Cioè, la media è uguale per tutti, invece se fate con i vostri amici, sarà migliore quella di chi ha fatto meglio, logicamente. Però con gli amici si può anche fare di più. Se fate tutti e quattro perfettamente perfetticamente, perfetticamente, vabbè, chi se frega, otterrete moltissimi punti, veramente e moltissimi punti. Ok, questa volta veramente chiudo, non è una beppa. Questa volta vi chiudo in faccia la porta, vi spengo la porta e vi chiudo la luce e ci vediamo fra una settimana. sì, più o meno, vai, forse, boh, ciao! 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 Ciao!